In questo episodio di The Last Story Il potere dell'ignoto Il piano di Dagran Giorno, grazie a tutti, grazie a tutti per continuare The Last Story Allora, dobbiamo... Allora, vediamo un po' cosa fare Allora, se parlo con Dagran, cosa succede? Parliamo con Dagran Ok Ok Va bene Va bene, ok, Dagran non mi ha detto nulla di interessante Adesso voglio andare a vedere Calista un attimo, se ha qualcosa da dirmi Perché non mi ricordo se sono dialoghi aggiuntivi, questo o quell'altro No, qua non si va da nessuna parte No, in realtà... Dov'è chi si va qua? Puoi pensare un secondo Si va nella stanza del capitano Che però ci sono delle ceste che ho già aperto, se non sbaglio Vediamo subito, eh Verifichiamo un attimo Sì, ci sono delle ceste che ho già aperto Quindi è tutto inutile qua, andiamo via Andiamo via di qua Mamma mia, tutto un casino Devo ricordarmi dov'è Calista perché... Beh, chi si ricorda dov'è? Sicuramente da questa parte no Forse dalla parte di... No, questa è la parte di lui che devo andare dalla parte di Milani allora Ho capito, non peccare ogni volta Mamma mia, questo non deve rompecare ogni volta E questo... Lo so che è quella lì la porta che non si apre Un attimo Di qua devo andare, di qua Vado di qua Sì, apri Oscurità a me Perfetto Dai, 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 dai Vorrei ricordare che abbiamo un sacco di rame e degli gnomini da usare Calista Dicci qualcosa Dov'è? Dov'è Calista? Eccola Ciao Oh, Tail Perché non ti dici a me che stavi fuori dall'islanda? Ops Se sei un banana Sì, appunto Ma questa quanto l'ho per cura Quanto l'ho per cura Quanto l'ho per cura Grazie, grazie molto alle 11 di sera Gentissimi Mi dici sempre le stesse cose? Ah sì, ok Va bene, va bene Volevo vedere se c'era qualcosa Sì, ho capito Dai, regà, ho capito Dai Allora, voglio vedere se Tu Allora, voglio vedere un attimo Questi qua No, questi no Questi no Sono inguardabili Questi sono peggio ancora Mi dici, sono terribili Ma 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 c'è una cosa decente o no? Perché quali erano quelli di pantaloni I pantaloni Questi qua erano Sì, però ce li ha Milania Allora, niente Allora Se ti parlo di voglio Non mi ricordo più cosa volevo fare No, ma ce n'era una, scusa No, ce n'era una Per forza No, ce n'era Un attimo che controllo Vabbè, sono rincoglionito Lasciamo perdere Lasciamo perdere Va bene così Dai, Calista Va bene così Anche se hai la mia Le mie brache Va bene così Perché non ci sto capendo più la mazza Andiamo a vedere la cosa La La cosa della porta Che sennò veramente Sennò veramente Qui sto un'ora a fare Fashion story Non mi Non mi sembra il caso Sinceramente Basta Ho capito No, non per cazzo Quanto rompe i coglioni Questo Vado Oglia santa Ho capito Vado Adesso Devi stare calmo Dio santo Fammi migliorare le armature Dopo siamo a posto Mamma mia Oh, questo qui ogni 5 secondi Ma l'hai vista? Sì, l'ho vista Cazzo, l'ho vista Allora Calma Con calma Allora Allora Dio santo Tu Vai su Così mi ricordo bene Chi ha cosa E chi non ha niente Poi Tu così L'ultima L'ultima Saren Che ha questo E basta Cos'è Saren? Che armatura ha Saren? Ah, questa Però Va bene, dai Vabbè Appena arriva Saren Le metto le sue Però Facciamo così Visto che io sono Sono una bella persona Aspettate Ve la mettiamo a calista Dai Probabilmente dovrò togliere Tutte quante le cose Ho capito Dai, dai Andiamo dentro la porta Che sennò questo Mi continuo a assillare Ogni volta Andiamo dentro Ah, sì Cosa c'è qua dentro C'è una cesta Ve l'ho vista, eh Ve l'ho vista C'è un libro C'è un libro Palesemente Un libro C'è un libro Non ho mai visto Symboli come questo Un'immagine La stessa C'è un libro Che cosa C'è un libro E' un libro Leggilo Dall'Iomirania Fa qualcosa Eh, cosa Cosa, dimmelo Oh no Madonna Che chiave È vero che L'ho già tolto Tutto a Calista Per fortuna Non le ho tolto Tutto Zale Che stai facendo? Il re del castello L'ho visto Prima Quindi Siete chi è questa persona? Penso che è il mio Distante Ancestore E' quello che mio padre ha detto Quindi Siete Relato Sì Il fondatore L'House Argonon Era Supposedmente Un'ottima Sorcero Le leggende Dio 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 Per creare Lasalus Canon E Dio 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 Tui Sto Incredibile E tu dimmelo domani Ma scusa Beh Si chiamavano... ...Posizione del Outsider Vabbè... ...Vabbè... ...Eso è il motivo che la tua luce era brillante così brillante ...Emmo potrebbe essere reagito a la mia argana? ...Emmo solo un mercenario ...Cincomo potrei avere questo tipo di potere? ...Emmo potrebbe essere per proteggere la isla di Lazzalus ...emmo come nella legenda ...Emmo sicuro che il Outsidero crede che sia potuto fare questo ... ...Emmo non款amente a cura ...Emmo molto semplice ...Perché ti credi che Zangorad saprà qualcosa ...S為' questo potere 60% ...Cincomo potrebbero essere reale ...Chiacchiave del bar? ...Chiacchiave del bar?! ...Chiacchiave del bar... ...Chiacchiave del bar? ...Chiacchiave del bar ...Chiacchiave del bar? ...Chiacchiave del bar? Facciamo via 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 Perfetto Molto bene Calista dimmi qualcosa Una chiave non lo so sinceramente Però qua c'è una cassa Apro la cassa storto Dai Rame degli gnom Bene Non so sinceramente la chiave Aspetta un secondo Non c'era Intanto facciamo così C'è un rame degli gnomi da usare Facciamo di questo Sì anche se non c'è Seren Però ok C'è una chiave del bar C'è una cosa qui che non si apriva Verifichiamo subito Apri Sì sì apri apri Si apri L'oscuro tenebra incredibile Dai Era lì Era qua Ci sono scoperte a questo cabinet Magari può essere muovito Dai apri C'è lo scuro Cosa c'è qua C'è una mappa Sì c'è una mappa Sì c'è una mappa C'è una mappa Palesemente La mappa che Zael ha trovato Ha mostrato il preciso L'occasione della base dell'Araq Sì c'è una mappa Sì c'è una mappa Sì c'è una mappa Cosa c'è una mappa Sì c'è una mappa E' starلا E' un nuovo flusso Quanto cattivo Quanto cattivo Va bene però non adesso Per favore Non ora Assolutamente Se mi dici qualcosa Siamo imbecilli Non siamo dei No Secondo me no E vabbè ma Mirania Tu pensi sulla sta roba Vabbè ragazzi Vediamo se c'è Io direi che non c'è niente da fare sinceramente Anche perché dopo Se parlo con Darker mi dice Dopiamo andiamo dai andiamo Quindi vado a salvare Anche perché Adesso si apre proprio un altro capitolo Che non c'entra un tubo con la nave Quindi io direi di chiudere qua il video Quindi andiamo a salvare Andiamo a salvare Non ho niente immagino Diamo una ricontrollatina veloce Non ho rame dei gnomi Non posso potenziare nulla La palestra Possiamo la palestra dai Che schifo non fa Molto bene Basta ho capito Basta Hai rotto le palle Non vedo l'ora di andare via Da questa nave di malati mentali Che mi dicono sempre le stesse due cose Qui sono già stato Andiamo a salvare di qua Dai Salve uomo Quindi ragazzi Per questo momento di restore abbiamo concluso Ma che è stato un po' È stato un po' più corto in realtà Però ci sta Dopo due episodi lunghi ci sta uno più corto Quindi c'è il video di giusto Mettete un mi piace Commentate e scherete E noi ci vediamo Al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti